Rideterminazione della zona rossa nel capoluogo, la decisione è del sindaco Cialente. Arresto dopo lo scippo, operazione degli agenti del commissariato di Avezzano. Gemellaggio Italo-Francese, coinvolto anche il Gal Terre Marsicane. Iniziati i lavori nella circonfucienza, sono importanti per l'agricoltura. Un cordiale saluto dagli studi di Antena 2. In apertura di giornale alcune notizie riferite al recente terremoto del Riatino, ma anche notizie riferite al terremoto dell'Aquila con alcune polemiche per gli interventi. A Monta, a 4.013, il totale delle persone assistite a seguito del violento terremoto che ha colpito il centro Italia, ospitate nei campi e nelle strutture messe a disposizione. Lo rende noto all'ufficio stampa del Dipartimento della Protezione Civile. Di queste, 472 sono le persone alloggiate nei campi allestiti in Abruzzo e 135 quelle ospitate nelle tendopoli di Grisciano e di Fonte del Campo ad Accumoli Rieti, installate dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo. Inoltre, sono 994 gli sfollati che si trovano alloggiati nelle strutture messe a disposizione della Regione Lazio, 1.475 hanno trovato ospitalità nelle Marche, 1.072 nelle aree e strutture predisposte in Umbria. La Protezione Civile rende noto che la disponibilità complessiva è di oltre 6.316 posti ai quali si aggiunge la possibilità di predisporre ulteriori moduli secondo necessità. E da oggi è iniziato il lavoro parlamentare del Governo nazionale per discutere appunto diversi aspetti legati al recente terremoto del Reattino. A riguardo è intervenuta con una nota la senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane. Tra l'altro scrive, dopo il sopralluogo ad Amatrice e di alcuni altri comuni del nuovo cratere, cinque dei quali si trovano in Abruzzo, con l'audizione del sottosegretario De Vincenti nella Commissione Ambiente alla quale sto partecipando, cominciamo oggi il lavoro parlamentare per la ricostruzione e per la prevenzione. Faremo tesoro delle cose buone fatte in altre emergenze, evitando tutti gli errori compiuti anche sulla pelle dell'acuina. Questo Governo sta già operando al meglio. All'epoca del sisma del 2009 ero presidente della provincia e sfollata prosegue Pezzopane. Conosco bene il dramma del terremoto. Anche questa volta, purtroppo, cinque comuni dell'Abruzzo si trovano nel cratere. Si tratta di Montareale, Capitignano e Campotosto in provincia dell'Aquila e Valle Castellana e Rocca Santa Maria in provincia di Teramo. Ci sono danni e sfollati. L'emergenza è mediata e anche ripristinare la viabilità. Va appaltato con rapidità il ripristino del collegamento viario tra l'Aquila e Damatrice. Bene, Casa Italia. Bisogna puntare su un piano pluriennale di messa in sicurezza. E dopo 20 anni il fascicolo del fabbricato non può più aspettare. Nel 2009 lo abbiamo predisposto. Adesso è ora che diventi un obbligo di legge. Magari conclude Pezzopane incentivato con l'eco bonus, come ha detto, dei incenti. Ma ci sono anche polemiche che in qualche modo, a seguito del recente terremoto, fanno riferimento a quello dell'Aquila. Come nel caso di Guido Liris, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale all'Aquila. Tra l'altro afferma, se Massimo Cialente nel 2012 è stato rieletto sindaco della città dell'Aquila, lo deve alla risposta emergenziale, in primis abitativa, che è stata messa in piedi da Bertolaso e dalla Protezione Civile Nazionale. Ho aspettato che passasse il giorno dei funerali dei fratelli di Damatrice, ma ora non posso più tacere. Troppe sciocchezze sono state dette sul modello L'Aquila, da parte della sinistra, sia a livello nazionale che locale. Posso accettare le corbellerie di qualche giornalista di partito, della povera Serracchiani, di un presidente del Consiglio in caduta libera, che utilizza il dramma del sisma per rilanciare la propria immagine, insomma di gente che non c'era e che neanche ha interesse a conoscere la verità. Non posso però accettare vergognose bugie da chi ha vissuto in prima diretta il dramma aquilano. Prima di parlare del modello L'Aquila, bisognerebbe sciacquarsi la bocca. Ricordo benissimo l'entusiasmo, i sorrisi e la soddisfazione che caratterizzavano i volti di Cialente e Pezzopane quando sgomitavano per tagliare i nastri dei progetti case e map accanto all'odiato Berlusconi e dal rinnegato Bertolaso. Se Massimo Cialente oggi parla da sindaco, è perché condivise ed avallò la decisione presa nell'immediato post-sisma di costruire abitazione per i cittadini aquilani, perché condivise ed avallò la scelta di costruire strutture per le scuole e l'università che ripresero il loro corso già in autunno, dopo solo quattro mesi. Se ci fossero state scelte diverse, non ci sarebbe stata più una città. Sento e leggo di esperti che paragonano il sisma agguilano del 2009 a quello di Amatrice. Mi mette paura l'ignoranza e l'approssimazione con cui si fa disinformazione. Addirittura si confronta un dramma che ha coinvolto 100.000 sfollati con uno che ne ha visti 2.000. Amatrice è paragonabile ad una delle frazioni aquilane e neanche alla più grande. L'unico termine di paragone, purtroppo, riguarda le vittime del sisma. Invio invito al sindaco e gli altri esponenti della sinistra ad evitare ricostruzioni false della storia dell'Aquila dopo il 2009. Le figuracce sono dietro l'angolo, dato che siamo tutti testimoni. Auguro ad Amatrice il modello Aquila. E restiamo in qualche modo all'Aquila con il terremoto del 2009. Il sindaco dell'Aquila, infatti, Massimo Cialente, ha firmato l'ordinanza che ha come oggetto la rideterminazione e ridelimitazione area zona russa del centro storico cittadino. Un provvedimento atteso dopo la cancellazione per lutto dovuto al sisma di Amatrice, ma anche per problemi di ordine pubblico legati agli eventi culturali estivi del capoluogo. In primis la perdonanza celestiniana e il jazz per l'Aquila. Quest'ultimo poi spostato a Colle Maggio è divenuto jazz per Amatrice diviso anche in altre piazze d'Italia. Sulla sicurezza del centro storico, afferma l'Aquila Cialente, c'è stata una differenza di vedute con il prefetto Francesco Alecci che ha ravvisato invece una pericolosità eccessiva. A questo documento seguirà un appalto per recinzioni insuperabili da installare nelle zone vietate. Il testo, firmato anche dal dirigente del settore di costruzione privata Vittorio Fabrizi, ricorda che nel centro storico cittadino sono in avanzata fase le attività di riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e di conseguenza si ritiene di dover provvedere ad una nuova delimitazione della zona rossa escludendo dalla medesima gli edifici ed aggregati per i quali risulta l'avvio dei cantieri oppure l'avvenuta dichiarazione di fine dei lavori. Ci sono anche nuovi diieti dal momento che il Sindaco ritiene necessario delimitare nuove zone da interdire al pubblico ubicate in via Santa Croce e via Sant'Andrea, via Campo di Fossa, dove non sono state riscontrate condizioni di sicurezza tali da permettere la fruibilità pubblica. La raccomandazione comunque è che coloro che accedono alle zone ristrette, benché autorizzati, devono porre estrema precauzione nella percorrenza con l'obbligo di transito al centro della viabilità ed evitare assembramenti o soste in prossimità di cornicioni e vicinanze degli immobili. Il Comune di Sulmona sceglie la strada dei MUSP, cioè moduli ad uso scolastico provvisorio per contrastare l'emergenza terremoto. Lo ha annunciato oggi, nel corso di una conferenza stampa, il Sindaco Anna Maria Casini. La richiesta dell'amministrazione penigna alla Regione Abruzzo è stata già formalizzata nell'incontro avuto ieri pomeriggio con gli assessori regionali Mario Mazzocca ed Andrea Gerosolimo. Al momento si attende alla risposta della Regione e di relativi tempi di attuazione. Le verifiche disposte dagli uffici comunali su 16 strutture scolastiche della città avrebbero evidenziato che solo tre risulterebbero a norma per i requisiti antisismici per un totale di una popolazione scolastica interessata di oltre 1.200 ragazzi. Domani pomeriggio il Sindaco incontrerà i dirigenti degli istituti scolastici per una verifica dello stato di ogni struttura. In alcuni istituti sono stati già avviati i lavori di adeguamento sismico ma il primo cittadino non ha esitato a definire problematica la situazione complessiva anche alla luce del prossimo inizio dell'anno scolastico tanto da non escludere un possibile rinvio dell'apertura delle scuole. A questo proposito giovedì prossimo 8 settembre il Sindaco Casini convocato con tutti gli altri primi cittadini dei territori interessati parteciperà al vertice indetto dal Presidente della Regione Luciano D'Alfonso. In quella sede il primo cittadino di Sulbona non ha escluso di avanzare l'ipotesi radicale di rinnovare l'intero patrimonio edilizio scolastico adottando criteri antisismici che prevedano la realizzazione di nuove costruzioni con materiale innovativo sullo stile giapponese o americano mettendo da parte le metodologie che prevedono l'impiego di cemento armato. Ora un pa' di notizie di cronaca nel tardo pomeriggio di ieri il personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha arrestato un giovane marocchino ritenuto responsabile di uno scippo commesso ai danni di una signora novantenne. Lo straniero con precedenti specifici e noto alle forze dell'ordine anche per pregressi e attività legate allo spaccio di stupafacenti ha aggredito l'anziana donna nel centro cittadino strappandole una cattedina d'oro. La vittima rimasta ferita è stata portata all'ospedale di Avezzano dove attualmente è ricoverata. Immediatamente sono scattati gli accertamenti da parte del personale della Polizia di Stato impegnato anche nei servizi di rafforzamento del controllo del territorio in occasione della manifestazione Notte Bianca in svolgimento in queste ore nel centro città. Le risultanze tra cui la visione di alcune telecamere hanno permesso di attribuire la responsabilità allo straniero presso il cui domicilio è stata rinvenuta la refurtiva. Lo stesso su disposizione del pubblico ministero di turno è stato associato alla casa circondareale San Nicola di Avezzano. Controllo invece della Guardia di Finanza nel comune di Sulmona quasi esclusivamente nell'ufficio del personale per arginare il fenomeno dell'assenteismo. Le verifiche su cui c'è al momento stretto riservo sono state confermate dal sindaco Anna Maria Casini. Non è la prima volta che bussano al mio ufficio per avvisarmi della loro presenza. Spiega non conosco la natura delle verifiche che posso solo immaginare visto che hanno riguardato uno specifico settore. Controlli che mi vedono in piena sintonia perché utili a rimettere ordine ed a riportare il senso di responsabilità in una struttura dove ancora troppe persone non fanno il proprio dovere. Nel corso delle verifiche le Fiamme Gialle avrebbero acquisito una voluminosa documentazione sulle presenze dei dipendenti e sui permessi rilasciati dai dirigenti. Prima la visita in comune poi al parco dell'ex Arsa di Avezzano poi verso l'Incire ed i cunicoli di Claudio per un gemellaggio tra una cittadina francese ed Anversa degli Abruzzi con il coinvolgimento della città di Avezzano il tutto nel servizio di Plinio Agliotto. Un gemellaggio tra la cittadina francese di Ilie Combrè e Anversa degli Abruzzi con tappa intermedia nel capoluogo marsicano per una cerimonia voluta dal Comitato per la Comunicazione Culturale di Avezzano e subito avallata dal Gal Terre Aquilane. A legare la Francia con il nostro Abruzzo hanno involontariamente contribuito due grandi figure letterarie del secolo scorso Marcel Proust e Gabriele D'Annunzio due poeti che in comune hanno la caratteristica di aver trovato ispirazione per alcune loro opere dal fascino dei luoghi dove hanno soggiornato e trascorso una parte della loro vita. Il motivo di questa tappa intermedia ce lo spiega Rocco Di Micco consigliere comunale e presidente del Gal Terre Aquilane che ascoltiamo insieme al sindaco di Aversa e all'ingegner Franco Lombardi in rappresentanza del Comitato per la Comunicazione Culturale. Lo scopo è di creare una sinergia fra comuni sia del territorio nostro quindi dell'Abruzzo con realtà al di là dell'estere quindi con la Francia. In questo caso il gemellaggio fra la città di Anversa e di Il Combré nasce da diversi anni e hanno creato due parchi letterari. In realtà noi abbiamo scoperto negli anni insomma leggendo che Cappadocia il nostro comune ha interessato d'annunzio perché è risieduto circa un anno e mezzo d'annunzio a Cappadocia e cita nella fiaccola sotto il moggio anche la città di Cappadocia il paese di Cappadocia fiaccola sotto il moggio che è ambientata ad Anversa quindi nell'ottica dello sviluppo turistico e anche di un'incrementazione di scambio culturale abbiamo colto a volo l'occasione dataci dal comitato per invitare una delegazione francese qua ad Avezzano insieme al sindaco di Cappadocia al sindaco di Anversa il sindaco di Luco il sindaco di Capistrello e chiaramente il comune di Avezzano per renderli dotto sia del progetto che è stato fatto dai cunicoli di Claudio che è stato realizzato dagli ingegneri francesi per fargli vedere le nostre realtà i nostri territori ma soprattutto per convolgerli in un progetto allargato che potrà e genererà un parco letterario dedicato a D'Annunzio anche a Cappadocia con il restauro della casa dove è stato ospitato per circa un anno Gabriele D'Annunzio questi percorsi d'Annunziani in realtà toccano un po' tutta la marzica in realtà noi abbiamo fatto un progetto che abbiamo presentato nella misura che stiamo presentando in questi giorni nella misura 19 dei fondi liter perché stiamo rispondendo a questo bando regionale che porterà circa 3 milioni e 6 per il turismo sul territorio marzicano e quindi questo sarà è un primo passo della realizzazione di questo progetto Sì D'Acode Cesare allora i francesi che vengono da voi chiaramente forse dovrete ricambiare poi la visita anche voi con loro o no? Sì sì noi abbiamo una frequentazione che va avanti da diversi anni abbiamo già avuto diverse visite noi siamo stati diverse volte in Francia loro sono venuti si è creata una amicizia con molti rappresentanti del comune di Liecombré che appunto come diceva l'amico di Micco è un comune che dove Marcel Proust ha ambientato molte delle sue opere e con il quale Gabriele D'Annunzio ha avuto uno scambio epistolare importante quindi quando noi iniziamo questa avventura dei gemellaggi europei essendo avversa paese che ha ambientato dove Gabriele D'Annunzio ha ambientato la fiaccola sotto il moggio allora ci siamo innanzitutto guardati intorno per ampliare le nostre prospettive culturali ci è venuto quasi naturale rivolgersi agli amici di Lie per iniziare questa relazione di gemellaggio e quindi questi scambi sono frequenti io non posso che cogliere con grande piacere il progetto di ampliare queste iniziative di scambi culturali con gli amici di Cappadoccia e gli amici di Avezzano perché ovviamente quando dietro gli scambi culturali poi si identificano i rapporti e le relazioni c'è tutto credo c'è tutto da guadagnare in termini culturali di scambi in termini socio-economici di crescita è un fatto positivo e noi ci teniamo a rafforzare le relazioni sia con gli amici di Avezzano e di Cappadoccia che con gli amici di Lie Ingegnere Lombardi l'idea dicevamo è stata la vostra ecco come è scaturita da chi è scaturita chi ha preso l'iniziativa per questo gemellaggio che sembra una cosa di poco conto invece è importantissima perché qui tiriamo in ballo Marcel Proust e Gabriele D'Annuzzi insomma due grandi figure della letteratura del passato certo beh innanzitutto il nostro comitato promuove delle azioni culturali fra vari enti e fra enti e privati e anche iniziative nostre e proprie è venuto diciamo a conoscenza di questo gemellaggio fra la città di Anversa e gli amici dei francesi cioè è subvenuto spontaneo proporre all'amministrazione comunale in particolare la persona dell'amministratore di Micco e rappresentante anche per lo sviluppo internazionale di queste iniziative di far transitare e visitare anche la nostra città quelle bellezze che abbiamo pure qui nella Marsica ad Avezzano con questa iniziativa diciamo ecco cioè di accoglierli nella giornata di oggi per una visita guidata l'amministratore di Micco ha accolto con entusiasmo l'iniziativa e ci ha ospitato come ci sta ospitando e quindi siamo ben felici insomma di aver contribuito anche noi nel nostro piccolo a una iniziativa che speriamo anzi sicuramente avrà ulteriori sviluppi e fuoriero diciamo di iniziative future insomma bellissime anche all'estero fuori i cunicoli di Claudio forse l'opera più importante che c'è qui nella Marsica riusciranno ad apprezzarla sicuramente sicuramente noi poi devi sapere che abbiamo inserito nel progetto dei fondi leader due progetti importanti per la rivalorizzazione dei cunicoli in più stiamo aspettando i soldi della Camera di Commercio in realtà stiamo puntando molto sui cunicoli tu pensa io ho anche cambiato il logo del Gallaterra Aquilane inserendo i cunicoli che saranno da oggi l'emblema della Marsica perché hanno cambiato radicalmente il modo di vivere nella Marsica prosciugando il lago ci hanno trasformato da pescatori in contadini il programma che prevediamo per gli ospiti francesi per gli amici francesi è quello proprio di fargli visitare sia i cunicoli ma in realtà partiamo da Angizia dove c'era l'inghiottitoio dove ci aspetterà il sindaco di Luco poi i cunicoli di Claudio l'epoca romana poi la parte quella del del parco dell'Incile che è del Torlonia e in realtà prima di portarli a fare questo giro li portiamo anche al parco Arza e poi li portiamo alla Galleria del Gusto fatta l'anno scorso dal Gal dove lo chef Lucia Tellone allieva di Gracco gli preparerà un pranzo faremo anche una matriciana ma solo per ricordare l'evento luttuoso che ci ha colpito in questi giorni però tutto con prodotti tipici locali così la valorizzazione passa sia attraverso la conoscenza dei paesaggi della natura e di ciò che abbiamo le ricchezze che abbiamo ma anche attraverso i prodotti tipici che ci rappresentano e che ci rappresenteranno nel mondo per i progetti che abbiamo inserito sempre nella misura 19 dei fondi leader presenti alla cerimonia una quarantina di abitanti della cittadina francese guidati dal vice sindaco Marie-Claude Francaise che dopo il benvenuto in comune sono stati accompagnati in successione prima al parco Arsa di Piazza Torlonia poi a Cunicoli di Claudio e quindi nel complesso idrico dell'Incile una evidenza pubblica una commissione giudicatrice per nominare una figura sulla base della competenza tecnica ed amministrativa questa è la richiesta del Movimento 5 Stelle sulla prossima nomina dell'amministratore H cioè l'azienda comprensoriale acquedottistica una posizione che segna una forte rottura con le forze politiche di centrodestra e sinistra che in questi giorni sono affaccendate per la nomina che dovrebbe avvenire nelle prossime settimane al riguardo Domenico Pettinari consigliere regionale del Movimento 5 Stelle così commenta noi non facciamo nomine non è la politica che deve scegliere sulla base di appartenenza figure così importanti l'ACA è di tutti l'acqua è un bene comune ed è giusto che un governo responsabile decida su criteri meritocratici e non politici la figura dell'amministratore dell'azienda dell'acqua l'azienda per il servizio idrico in Abruzzo è stata teatro di importanti inchieste giudiziarie causate da una cattiva gestione e dalle numerose nebulosità che hanno generato un enorme sperpero di denaro pubblico l'azienda ricordiamo ha accumulato 100 milioni di euro tra debiti e mancati crediti riscossi per cui si è reso necessario un concordato preventivo anticamera del fallimento abbiamo sempre denunciato le irregolarità dell'acqua prosegue Pettinari per esempio leggendo i bilanci come li ha letto il Movimento 5 Stelle sono riscontrabili numerose consulenze esterne pagate cifre astronomiche mentre l'acqua possiede l'organico necessario all'interno dell'ente una gestione scellerata dunque che ha massacrato il servizio idrico abruzzese portando un aumento tariffario sproporzionato 1,50 euro di media a metro cubo oggi contro i 14 centesimi del 2013 del 2003 l'acqua è un bene comune e primario e di costi di gestione devono essere contenuti puntando alla qualità del servizio pertanto conclude chiediamo a differenza di alcuni sindaci del Partito Democratico che auspicano addirittura la ricostruzione di un costoso consiglio di amministrazione che rimanga un amministratore unico nell'azienda e che questo amministratore sia scelto sul concorso ad evidenza pubblica con criteri meritocratici da una commissione giudicante in riferimento all'inizio dei lavori sulla strada Circonfucenze nel Fucino è intervenuto l'assessore comunale alle politiche agricole del comune di Cielano Domenico Fidanza fa rilevare che tra le attività produttive presenti nel comune l'agricoltura si conferma ancora oggi quella principale sia dal punto di vista occupazionale sia economico un settore trainante che ha necessità alla luce della crisi che negli ultimi anni negli ultimi periodi ne hanno caratterizzato l'andamento di sostegno e di interventi concreti un adeguato supporto all'agricoltura passa anche attraverso il miglioramento della viabilità parliamo dell'ex Circonfucenze al fine di renderla più funzionale e vicina alle moderne esigenze delle imprese agricole in questo modo l'assessore annuncia avvio dei lavori per la riqualificazione della Circonfucenze del tratto compreso tra strada 12 e strada 15 che versa in uno stato indecente e poco adatto alle attuali necessità degli operatori agricoli locali i lavori da poco iniziati spiega l'assessore Fidanza riguardano principalmente il ripristino ed il rifacimento del manto stradale su tutto il tratto della Circonfucenze che ricade nel tenimento del comune di Celano e precisamente dai confini tra strada 11 e strada 12 fino alla metà di strada 15 questo per il semplice fatto che da qualche anno la responsabilità della manutenzione delle Circonfucenze è passata dalla provincia ai comuni in questa prima fase degli interventi si procederà anche ad allargare i tratti che presentano maggiori possibilità di rischio per gli operatori agricoli naturalmente ci auguriamo che iniziative del genere possano essere intraprese ed attuate anche da altri comuni la cui competenza è quella che ricade nel territorio del Fucido il prossimo 10 settembre si terrà a Capistrello alle ore 16.30 presso la sala Ottaviani un incontro di dibattito sul referendum costituzionale l'evento è organizzato dall'associazione l'isola che non c'è e democrazia partecipativa e nasce dall'esigenza da parte del cittadino di approfondire i temi di una proposta di riforma che fino ad oggi è stata più oggetto di contesa strumentale tra le poste frazioni che esposizione chiara nel merito della sostanza dei cambiamenti previsti il format prevede il confronto tra due rappresentanti per il sì e due rappresentanti per il no di fronte ad un pubblico che potrà porre dei quesiti l'obiettivo è quello di fornire più elementi oggettivi possibili affinché il cittadino possa esprimere un voto ragionato ma soprattutto consapevole per il sì saranno presenti Michele Fina coordinatore di Rifare in Italia Abruzzo ed il deputato del Partito Democratico onorevole Federico Massa le ragioni del no saranno invece rappresentate da Paolo Dell'Aventura coordinatore provinciale del Comitato per il no e da Maurizio Cerbo componente della Segretaria Nazionale di Fondazione Comunista il dibattito sarà moderato dalla giornalista Magda Tirabassi mentre l'introduzione è affidata al giornalista Primo di Nicola L'amministrazione di Avezzano in riferimento al servizio di rifezione scolastica per le scuole dell'infanzia e primaria statali comunica che il termine per la presentazione delle domande di agevolazione tariffaria per l'anno scolastico 2016-2017 è stato riferito al 20 settembre 2016 Le domande per l'ottenimento dei benefici dovranno essere presentate al Comune di Avezzano utilizzando la modulistica disponibile presso l'ufficio del Segretariato sociale ricorda l'assessore Fabrizio Matini invitiamo le famiglie interessate a ritirare gli appositi stampati presso l'ufficio del Segretariato in Via Vezia o attraverso il sito internet www.comune.avezzano.acu.it Il Segretariato aperto al pubblico nei giorni di lunedì mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13 e del martedì dalle 15 alle 17 presterà l'assistenza amministrativa e fiscale richiesta nella compilazione dell'istanza Il sistema tariffario in vigore fino al 31 dicembre 2016 prevede diverse tariffe in base al valore ISE anche in questo caso il dettaglio per ottenere la tariffa ridotta è consultabile sul sito del Comune di Avezzano Tariffa non agevolata è pari a 3,98 per i minori appartenenti al nucleo familiare che ha un valore ISE superiore a 21.000 euro i minori non risidenti del Comune di Avezzano Mancata anche la presentazione dell'ISE Comunque ci sono numerosi esempi esplicativi per cui conviene consultare il sito del Comune A partire dal nuovo anno scolastico 2016-17 sarà introdotto un sistema informatico di gestione del servizio di benza scolastica e cambieranno le modalità di pagamento il nuovo sistema funzionerà come le ricariche dei cellulari in sostituzione del pagamento a mezzo consegna dei buoni cartacee i genitori dovranno acquistare i pasti mediante versamento alla tesoreria comunale ovvero effettuazione di un bonifico bancario con la precisazione della relativa causale le nuove modalità prevedono che ad ogni alunno iscritto al servizio di menza venga assegnato un codice PAN che sarà assolutamente personale con apposita circolare saranno comunicate alle famiglie tutte le informazioni e le istituzioni necessarie per maggiore informazione ci si può rivolgere agli uffici ubicati al piano terra di via Vezia Angelo Pellegrino direttore dell'officina dei sapori CESCOT di Subbona propone alcune iniziative per il comparto del turismo con particolare riferimento al marketing territoriale ritenuto strategico per l'intero settore fa notare che negli ultimi anni fenomeni diversi quali la globalizzazione l'integrazione degli stati nazionali lo sviluppo della tecnologia la crescita economica di nuove regioni del globo hanno alimentato una particolare attenzione delle comunità locali sulla necessità di promuovere e di innalzare la competitività del proprio territorio in un tale contesto si impone il marketing territoriale che acquista un crescente spazio nel dibattito culturale per questi motivi per essere utili al dibattito aperto in merito al settore turistico propone a tutti gli operatori del comparto un progetto complesso denominato rete delle imprese per la valorizzazione delle tipicità gastronomiche e della cultura del gusto con questa azione sviluppata di concerto con l'officina dei sapori e la chiesa si ritiene importante sviluppare e condividere un'idea di offerta territoriale mirata a differenziare e ad esaltare le specificità dei prodotti agroalimentari del territorio del centro abruzzo e nello specifico quello della valle peligna e delle aree circostanti angelo pellegrino ritiene che il progetto proposto intende strategicamente elevare l'attrattività della realtà locale ed il grado di soddisfacimento delle sue esigenze interne bene prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenaduetv.it o sulla nostra pagina facebook Antena 2 Avezzano dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antena 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni grazie per la gentile attenzione a sentirci alla prossima edizione www.antenaduetv.it www.antenaduetv.it